La mia storia personale di 27 anni di uomo delle istituzioni, prima magistrato, poi deputato al Parlamento europeo e oggi sindaco e la storia di questa bellissima e affascinante e difficile esperienza amministrativa e politica che fa di Napoli l'unico laboratorio autonomo civico della storia del nostro paese, sono totalmente strane al metodo, al contenuto e alle modalità con cui si sono espresse talune delle persone presenti a quell'incontro di cui viene resa pubblica oggi un audio con registrazioni. E' evidente che si comprende proprio quanto sia evidentemente alta la rabbia di alcuni proprio per come noi governiamo questa città, noi andremo avanti determinati come sempre perché mentre qualcuno pensa al proprio interesse personale, io in prima linea con tutta la mia squadra pensiamo all'interesse dei nostri concittadini, ai problemi di questi giorni proprio che non sono pochi e quindi anche questo stride molto. Abbiamo una città in difficoltà dove noi stiamo lavorando anche di notte, me compreso, dove stiamo lavorando la notte e dormendo non più di due ore negli ultimi giorni e ci sono altri che si riuniscono non per interessi collettivi ma per interessi personali. Questa è un'immagine che è totalmente distante dal nostro modo di fare politica. Io rispondo ai tantissimi napoletani che mi hanno eletto per ben due volte e possono essere sicuri di tutto, anche non essere d'accordo su alcune idee politiche di Luigi De Magistris e della squadra che lo circonda ma che sull'onestà, la trasparenza, la correttezza, il coraggio, la legalità e la giustizia possono dormire sogni tranquilli perché hanno affidato le chiavi a un uomo che non si farà mai nella sua vita intimidire o pressare da nessuno ed è il motivo per cui non faccio il magistrato più, da dove le pressioni non venivano dalla strada, dall'andrangheta con la coppola e la lupara, ma da chi ricopriva alti ruoli istituzionali. Figuratevi un po' se di questi giorni posso avere tempo da perdere rispetto ad alcune parti di quell'audio di cui abbiamo ascoltato che sono particolarmente inquietanti, devo dire che non fanno onore alla storia politica anche di questa città. Ma lei è preoccupato che possano venire meno i numeri in consiglio? Per nulla, io non sono un uomo che si preoccupa mai, nel senso io faccio politica per passione, faccio il sindaco come una missione da otto anni e mezzo, con tanto entusiasmo come il primo giorno, rispondo ai cittadini, ho lavorato per migliorare Napoli, continuerò a lavorare in quella direzione e sono convinto che non ci saranno problemi di numero perché non vedo chi possa sostenere istanze di quel tipo che non sono istanze politiche, non sono istanze collettive, non sono istanze di interesse, non è che là si parla di come si può organizzare meglio la raccolta dei rifiuti in città, il decoro oppure altri, è molto evidente che si parla d'altro, quindi non sono per nulla preoccupato, anzi sono molto concentrato sui problemi della città e trovo anche questo, diciamo, per nessuna responsabilità vostra, è quasi una sottrazione del tempo alla città a dover rispondere a queste meschinità umane e politiche. Ovviamente poi nei confronti di alcune persone prenderemo anche la distanza dal punto di vista formale, sia ben chiaro, perché noi non ci interessano, non è un problema di numeri e non numeri, è un problema di interesse pubblico, di onestà, di trasparenza, di potabilità e di rispetto per i napoletani. I napoletani hanno votato i consiglieri perché i consiglieri facciano gli interessi dei napoletani, quindi qua si deve ristabilire l'interesse del popolo napoletano che per quanto mi riguarda viene al primo posto. Per l'interesse dei napoletani io ho rinunciato alla mia vita privata per otto anni e mezzo, quindi da questo punto di vista voglio dire sono caricatissimo a pallettoni.